Allora via Eli, accade il liscio a corso dell'Anglone. Primo tiro. C'è una lama fantastica lì, non esiterai tanto a prenderla. La prima volta che si tratta di un'anglone, non esiterai tanto a prenderla. La prima volta che si tratta di un'anglone, non esiterai tanto a prenderla. Devi salire un po' coi piedi. Ah, eccola. Bravissima. Brava. Un po' a sinistra. E' lì con quel che c'è. Fai fiducia, fiducia, fiducia. Fiducia in colori. Dai, dai, che è facile. Sì, sì, fiducia, è una buona attacca quella lì per il piede. Eccolo, dai, su, 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 su quello lì, su, 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 su. Brava. Bravissima. Brava. Opa! Qua, 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 dietro la corda, qua, nì. Fatta! Fatta!